Se hai riscontrato un problema riguardo a DirectX error su FIFA 25 ovviamente questo errore esce soprattutto sulle schede grafiche e Nvidia ovviamente esce soprattutto su molte schede grafiche come la 2070 Super, 3060 Ti, 3070 oppure una 1060 e quindi in questo caso è possibile risolvere il problema. Ma aggiornando i driver della nostra scheda grafica e in questo tutorial ti mostrerò anche come aggiustare del tutto il problema grazie a questi comandi da inserire sul nostro Regedit del sistema. Quindi iniziamo prima ad installare i driver per la nostra scheda grafica quindi vai a mettere così la tua scheda grafica qua sopra la vai a trovare la scarichi e installi così scarichi e installi i driver per la tua scheda grafica. Ti ho lasciato in descrizione sia questo link Nvidia App e DirectX and User Runtime. Quindi trovi così il driver per la tua scheda grafica ovviamente ce ne sono due, uno per giocare e un altro invece per chi usa il computer per lavorare. Driver GeForce Game Raid è quello là che ti permette di aggiornare la scheda grafica per quelli che usano il computer per giocare quindi devi scaricare questo qua. Driver GeForce Game Raid, se lo usi per lavorare usa questo qua. Vai e vedi, scarichi e installi così il driver e una volta fatto devi riavviare il sistema. Se non dovesse bastare puoi usare il programma Nvidia App, scarichi e installi così la versione beta. Andiamo su Nvidia App, vai su driver e qui c'è scritto aggiorni, cerchi così l'aggiornamento da fare su Nvidia. Se non dovesse bastare possiamo direttamente scaricare e installare il programma Web Installer DirectX, scarichi e installi così il software che è compatibile con le versioni DirectX 9, 10, 11 e ti aiuta anche a risolvere i problemi all'audio. Quindi scarichi e installi il software. Una volta fatto, in descrizione ti ho lasciato così una serie di codici da inserire su un documento di testo. Quindi prendi un documento di testo, fai nuovo, documento di testo e inserisci così questi codici qua. Una volta fatto, vai su file, salva con nome, salva con nome, tutti i file e scrivi fix.rec, rec, r e g. Lo salvi sul desktop e fai salva e basta ed eccolo qua. E ci clicchiamo sopra. L'aggiunta di informazioni potrebbe usare la modifica o l'eliminazione non intenzionale di valore. No, facciamo sì. Ora, chiavi e valori contenuti inseriti nel registro del sistema e basta. Se hai problemi, commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.